Se il Consigliere Romano vuole intervenire sul campo di questione, me... ...per dare il senso, visto la maggioranza, da parte dell'Università, noi siamo in senso a questo... ...giorno. Allora, oggi l'assistore ha aiutato in modo tecnico, ma già va anche... ...che non è mai stato ascoltato, ma poi sulla scurti che andiamo. Vado, vado giù. ... 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 Si ha sfruttato, penso, i botti all'energia del stesso processo. Ovviamente, siccome alcuni immediati forti, alcuni allarghi allacciati, per te non si può andare da un tecnico e... come si sa? Vediamo se... Così viene da l'idea. Quanto, quattro anni fa? Avremmo più e tutto il suo ruolo. Io ho detto anche che tutto il mio pianto è il mio pianto, che è il suo ruolo, che è il suo reso del prezzo. Il problema di questo ruolo è che questo non c'erano tanti. E' il problema della società. Io dissi, non ricordo, questo potrebbe essere arriva a fare le prese, di andare a riprendere un progetto che io insieme ai suoi ragazzi non era il progetto mio. Era un progetto che avevamo sentito sempre sempre ragazzi, dove si metteva finalmente, in luce questa problematica, mettendo in piedi il progetto per una città di una detentrata all'aggresso alla partecipazione delle cose, che si dicevi tu, della veronimità rispetto a tante persone che compagano e rispetto anche alle persone, che è un altro problema che questo comune si ricorderà. E ovviamente, però, quando noi parliamo di reticoluzione, anche per spiegare alle persone che ci ascoltano, in reticoluzione parliamo di l'annontrazione dei risultati di questa situazione. che ovviamente, al di là del di là, se ne puoi essere un minuto. Ebbene, rispetto a questo io, alcune considerazioni che vanno parte, vanno parte sempre uno studio di dare più elementi, di dare, vabbè, di cambiare, di esperanza con questa maggioranza che non è, che io parlo a persone che ascoltano e anche i messaggi, diciamo, dalla maggioranza. Io dico che questa amministrazione è arrivata a due anni dalla sua esperienza e questo è da due parti. Perché io credo che oggi non ci può andare, perché si va a trascinare delle cose, così in modo molto contributile. anche in grado, in grado, in grado, in grado, in grado, a tecnici, tecnici, potremmo dire. Ma se vediamo, guarda un grado sul corso, questa amministrazione, non è che abbia dato un discurso, un spazio, un'idea, su promosse concrete, per dare un'inversione a questa città. E quando ha preso il libro, visto, l'assessore parlava del libro. Guardate, forse a parlare, io capisco, questo momento, lo stato centrale ha ridotto i trasferimenti, quindi, il libro diventa uno essenziale, il trattore, per esempio. Ma dall'altro lato, non è sempre, tra l'altro tempo, non c'è, in grado, il torneo trasferimento. A noi stiamo, mettiamo, in grado, che vogliamo compensare sui trasferimenti. Io, non ci vedo, tra i dati professionali precedenti, quindi, perché, come si chiama, ma tutto, di adesso, qua, costitivo. Vedete, secondo me, che mi dice, stai, in questo reticolto, si è piuttosto, una crescene, una crescene, di l'aspetatore. Se noi, vediamo, da 2.10, 61 milioni, a 2.12, si è piuttosto, 80 milioni. E io, questa è una cosa, che ho sempre, esatt. ogni anno, ci sono di muscolare, ma, mi ha già preso, in un attimo di amici nazionali, dove, il primo, deve fare una matrimonica, e su un'attimona, ma quello, di rivedere, da aspeta corretta. Perché, solo di vedere, da aspeta corretta, eventualmente, non siamo, meno a fare piace di città, a usare il fatto che non ci viene la nostra proposta che non dov'è presentare i dettagli trasferimenti. Come anche, vedete lo stato, guardate, io continuo a chiedere sempre delle stesse cose, come lì, il sindaco Sanciao Federico, tu ci confondiamo, ci chiamo chiamo, ma io chiamo, però non deve essere poi fatto a tutti, come devo dire, come le cose che dico, 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 come anche, oltre alle state di giudicazione, che sono, per esempio, la TAS e il di me, il problema della situazione esterno, che va avvolto una volta il senso, vedendo, porta da lui, ossia un sentimento di vacanza, certamente, in situazione, in comune, tanto come a me, 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 questo dico, a chiarire che, per esempio, i suoi altri che stanno ancora prodottorati, in questo momento, e anche rispetto alle tale stessi diputati, che dovrebbero essere, i problemi, la possibilità che dovrebbero essere garantica delle applicità, in questo caso, dalla società, in alto, la peggia situazione, la precedenza, passando a, diciamo, la presa da medicamenti, però lo stasso ha anche quella società, che poi vediamo la conoscenza, in questi giorni, di dichiaramenti, di tutti i correnti. E in realtà, anche per questo, si è spesso a dire, quello che ho detto, perché non si è capito che cosa è il futuro, quale è il futuro, quale è il futuro, la società del servizio, e se è una società in alto, deve essere impostata da una società privata, ma una società che riesce ad apprendere le libertà, e noi, ovviamente, ci mettiamo solo a cercare di nominare, ci inviare, provare, addirittura, che poi, per poter essere la statenza, prendersi, il campione di noi, di noi, di questo mondo, ci stimo, noi, che erano cittadine di Cattoria, è sempre il processo di ricerca, il grande campione del mondo, che ha avuto la solidarietà dell'attività, che va a portare da un altro palazzo, a quelli dei valitori, è sempre il processo di valitori sulla stessa legna di Europa, è sempre lo stesso che attivizza, pericolamente, questo contatto, e poi, voglio dire, una cosa da stessore, con la stessa legna di Stato, nel fritto del stessi quarto, ai 30 milioni di punti, nonostante, nonostante, nel razzesco, che crederebbe, però, per ricordare, nonostante. Quindi, dicevo, anche su questo, no? E' un'esercitazione di staventura, che sul comune, al suo attuale, parlando, qui a te, c'è parlato lì, però abbiamo parlato di Stato di Monti, che è anche un'altra ponte, che è un'esercitazione di Stato di Monti, che è un'esercitazione di Stato di Monti, che è un'esercitazione di Stato di Monti, e quindi, quando guardiamo di avanti, solo guardiamo di, di aria piccola, e, di aria piccola, che, e, di aria piccola, che, e, di aria piccola, che non si prende, a, che ci sono tanti, tre, che, e, questo, comunque, che, i voli di questi derivano dal discorso della scossione, che, da un'esercitazione, come si può fare, però, la ritenza di Stato di Monti, si fa crescere, il regime, come anche con le parti, sull'aercizio dell'alto mondiale, l'altro settore, e questi, questi, questi quadri, non hanno fatto questo punto, che, che, il settore, che, che, questo, che, 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 facendo questa, eh, repressione, ad alta unica, insieme a voi, io, direi che, eh, da questo punto, si evidenzia, che, questa amministrazione, la balance, che si è modificata in corso, cioè, che, 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 alle aziende, che, ma, che, che, ha dovuto, che questa, in questa amministrazione, che, 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 se è stato, detenuto, che, 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 di nuovo, a piangere, a chi, Ma questo è giusto che la razza anche politica, come devo dire. E' un problema dove i signori di città, che si piatta di un documento, la maggioranza è stato tenuto qui. E' un tempo, un'azionanza. E quindi dicevo, caro, io credo, e mi ha la quarta, quattro e tessima volta, che tu faccia una vera riflessione su un pianto che oggi stiamo, che non lo faccio, ma io credo, come dicevo, facciamo un piano di un lato, vediamo, capiamo, vediamo tutto. Io ho detto che c'è stato un po' di posto, se tante, se tessis, se tante, se tante, se tessis, se tessis, se tessis, rispetto al progetto, pochissi, se tanti stati, però io lo dico anche, come si sta via di un'eprezza, questo Consiglio comunale. Credo che dopo farne questo, una partita, un'amministrazione, che si dice, ma non è niente, no, si parla di manifestazioni, si sceglie da un discurso, la disabilità, per carità, però non lo so di me, 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 e io, qualche giorno fa, dopo la rapida e l'associazione di Europa, ho un altro problema, e la gente è allora io penso che ti spiego, e noi facciamo la juventà delle manifestazioni secche, che siamo una participazione del Norte Lavrovio, che noi lavoriamo su sufficontate, con i parishioner 사랑, con i동ione della Se vuoi proteggere questo cammino, lo faccio e poter imparare con persone di competenza. Perché quando si parla di perdere la città, anche se non si parla sempre di perdere la città, si perde la città e anche farà il pieno di qualcuno che si va a trovare. Si parte a prendere occhi che se c'è qualcuno che non è competente, che non può stare a quel posto, e imparare in modo che nessuno ci ha lasciato scritto che dobbiamo fare gli accessori, che dobbiamo fare gli efficenti, che dobbiamo fare gli consigli di domanda, per carità, ma se uno non è capace, tu prendi atto, e un dirigente, o un attenzione, non ha la capacità di portare avanti un qualcosa di consistente e dedicato, che può essere in che Europa, sulle imparare la città, perché altrimenti tu non fai, perché la città, tu hai fatto questa città. E io con questo mi auguro che tu continuisca di girare il topo, ma veramente io capisco tutti che si devono guardare di consigliere, di una fidanzata, di una domanda, non ci sono più la società, non ci sono più i partiti, alla fine ogni consigliere viene da te, e oggi mi chiede ovviamente qualcosa in quanto riguarda il suo partiere, è tutto decisivo, qualcuno riguarda i propri comitati, è tutto decisivo. Però questa amministrazione banca, e questo, se lo posso dire, è importante, è un momento nuovo, è sotto gli obiettivi, questa amministrazione banca che è una visione più alta, una visione più alta, una visione di quello che veramente le società si vuole portare avanti. Oggi in questo periodo si è andato a fare il tuo obiettivo, potremmo dire, e la battaglia si vuole portare avanti cose che stavano finire, come lo detto, però io penso che è arrivato un momento, da lo dico, e come presento, vai a mezzo, che viene a mezzo, che viene a mezzo, a mezzo, e allora, chi mi passa? Cos'è prende di, è uno che ci siede nella città, è uno che non fa le cose che ci svegli, è uno che si ha delle idee, e c'è da tanti altri, così chiede le opzioni. Però questo conclutto, che va a sempre, e noi ci affettiamo, non finita questa esperienza di oggi, ci affettiamo all'allare socializzionale del bilancio, e quello che è il momento, dove noi ci possiamo confrontare esternamente, però in modo, come devo dire, liberi, che in realtà si siede, se veniamo a un tavolo, segano, da un bene, non andiamo a nessuna parte. Allora, se noi, ci seguiamo liberi, veramente, da qualsiasi, conoscenziamenti, o libri personale, e, ringraziati, che qua non si stiamo, a prendere niente di personale, e apportiamo, per esempio, qual è il problema del tutto, qual è il problema della distruzione, qual è la protezione, è la protezione, è la protezione, è la protezione, ovviamente, è la protezione, con una forma di piena. Allora, se ne va a scoprire, che il problema del total è la parola, non so come, che è il calma di un calma, di modo, o è, che come stu, rispetto a chi, che io, non la cosa positiva, rispetto a, alla questione del futuro che si ha portato, rispetto alla visione di quanto riguarda. In quell'occasione, nel stato momento che si è perso la questione, perché il futuro è come una delle forze che si vuole fare al livello generale, che non vengono fatte dalla condivisione larga, qualunque si arriva sempre a te la giannica di contraposizione di questa vita, tra oggetti e credi a questo giusto, e io sono sempre questo, che a questo tempo, che aveva un trasporto in generale rispetto alla maggioranza di condizioni alla visione del futuro, se capisciare che questa vita è stata abituata negli anni ai chiusi, a un transversalismo l'amore del centro destra, lo dico da persone che si trovano dal suo altro lato, rispetto a persone del centro cinica, che sicuramente avranno fatto presa in una fase politica, che è stato messo con il mio obiettivo quello della considerazione di una cosa per questa, che è il problema della vita. facevano solo una contrapposizione personale, che poi di contrapposizione se ne parlava poco, perché c'era una contrapposizione soltanto. E questo lo facevano sia a te che sia a te. E chi li fa la gara di città ai bambini? E' uno che, come parlando di altra cosa, che io quando avvenivano loro sceglie in questa città, non la politica non era lontana. Facevano la mia professione, non c'era la sua, ma io quando c'era la loro professione. Qui sono con questa sede che siamo persone liberi, che portano tutti e molto a parlare, che non hanno interesse, che non hanno famiglie che hanno interesse, che non hanno famiglie che hanno interesse, che non hanno famigliari che possono avere interesse anche questo consiglio personale o anche i dei coi di questo mondo. Quindi, a me è fatto dire quando si alza la bandiera della normalità e non ha senso. La normalità si alza la mia professione. Non è che ti faccia vedere una parola pura. Quindi, a me è quello che ti diciamo, ma il sindaco, e diciamo questa cosa, che io non lo potranno. All'altro, a me è questo risconto, a me è quello che io credo. E io credo che il neancolo che ti faccia un tuo abbrato, ma che questo beniconto sia un punto di volta per la tua spazza, e anche per proposizione. Per magistratura intera, adoratutto della volontà dei denti, tutti quanti chiede, che un'altra è la sanale come se c'è la vostra verità. Grazie. Grazie consigliere. Grazie. 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 Grazie.